due settimane fa parlando di compressione lossless vi ho chiesto volete che faccia un video sulla compressione lossy visto che è da tanto che volevo parlare di jpeg avete risposto di sì quindi oggi parliamo di jpeg poi non ditemi che non vi avevo avvertito partiamo con una breve introduzione che si può applicare a molti se non a tutti gli algoritmi di compressione lossy per dati multimediali il problema è diciamo piuttosto semplice un'immagine essendo formata da 3 byte per pixel occupa tanto spazio un'immagine con risoluzione hd quindi 1920 x 1080 senza compressione occupa più di 6 mega invece con la compressione jpeg al 100% quindi ad alta qualità che poi vi spiego dopo cosa significa occupa poco meno di mezzo mega immaginate che jpeg è stato diciamo come standard rilasciato nel 92 quando le dimensioni degli hard disk nei nostri personal computer erano in media di 60 mega quindi se un'immagine è di 6 mega oggi magari non ci importa ma all'epoca se ti prendeva il 10 per cento dello spazio del tuo hard disk è come se ti importava il trucco è il seguente togliamo informazione quel tanto che mi basta o meglio quel tanto che basta all'occhio umano per non accorgersene cioè il ragionamento è il seguente se prendo un'immagine rgb quindi col tre canali senza compressione l'immagine jpeg compressa li metto uno accanto all'altro percettivamente non ci accorgiamo che sono diverse anche se effettivamente sono diverse a voglia se sono diverse questo perché la compressione jpeg è lossy che significa con perdita quindi durante il processo di compressione perdiamo dei pezzi e come facciamo a perdere dei pezzi dell'immagine e allo stesso tempo non ce ne accorgiamo e questo diciamo è quello che di cui vi diciamo vi racconto in questo video questo video come quello della settimana scorsa parla dell'algoritmo di compressione non del formato quindi non parlerò del formato jpeg ma di come jpeg funziona e farò del mio meglio per spiegarvelo ve lo giuro farò del mio meglio dunque il primo passaggio è quello di cambiare lo spazio di colori e cosa significa lo spazio di colori è il come i colori vengono rappresentati ci sono tanti spazi di colori ho già citato rgb che unendo tre colori in diverse proporzioni ma ne esce uno nuovo se avete mai avuto delle stampanti diciamo quelli soprattutto quelle a getto d'inghiostro come quella la vi sarete imbattati nello spazio di colore cmyk ciano magenta giallo e nero quattro canali per rappresentare i colori poi c'è da dire che rgb è additivo questo è sottrattivo ma quella un'altra storia tra i tanti spazi di colori che si sono scelti per jpeg loro usano ycbcr y è il canale che si occupa della luminosità quindi della luminanza mentre cb e cr per il colore infatti questi due canali vengono chiamate della crominanza perché si fa questo cambio di spazio di colore perché da studi effettuati l'occhio umano è più sensibile al canale y quindi quello della luminanza e quindi possiamo comprimere in maniera più aggressiva gli altri due avete visto capendo come funziona il nostro modo di percepire i colori ecco che si fanno delle scelte mirate e appunto per questo che passiamo al secondo passaggio quello della riduzione quello che viene chiamato in inglese down sampling si prendono questi due canali cb e cr della crominanza e si riducono e di quanto vengono ridotti beh dipende dal livello di compressione se per esempio stiamo parlando del 100 per cento di qualità non vengono neanche toccati ma possono essere ridotti della metà o addirittura di un quarto ok ora che abbiamo un canale y e questi due canali di crominanza ridotti a questo punto avviene quello che si chiama la suddivisione a blocchi abbiamo come abbiamo detto tre canali la luminanza y lasciato così come e cb cr che possono essere ridotti per ognuno di questi canali facciamo la suddivisione in blocchi 8x8 perché 8x8 cioè 8 pixel per 8 pixel perché vogliamo blocchi sufficientemente grandi da poter sfruttare correlazione all'interno del dell'immagine ma non troppo piccoli da non capirci nulla in effetti questa scelta è molto arbitraria ed è stata condizionata dai tempi in cui jpeg fu inventato le immagini all'epoca raramente potevano avere una risoluzione hd ma e figuriamoci in 4k oggi è la normalità e quindi blocchi più grandi oggi giorno farebbero più comodo come per esempio 16x16 ma negli anni 80 si decise che 8x8 era la scelta migliore e quindi ancora tutt'oggi restano 8x8 per ognuno di questi blocchi 8x8 avviene la magia che forse è meglio che ne parliamo dopo la sigla benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di fk under the hood io sono valerio e oggi parliamo di compressione lossi in particolare di jpeg madonna quanta immagine jpeg avete visto nella vostra vita e oggi scoprite come vengono fatte ma prima di proseguire vi invito a supportare il mio canale iscrivendovi lasciando un like e perché no lasciatemi un commento qui sotto per farmi capire se volete magari approfondimenti inoltre se volete offrirmi un caffè virtuale potete farlo tramite coffee io ringrazio come al solito tutti coloro che l'hanno fatto e se lo vuoi fare pure tu il link lo trovi in descrizione e quindi proseguiamo con jpeg a questo punto della compressione come vi avevo detto diciamo prima della sigla avviene la magia che cos'è sta magia io cercherò di spiegare questa magia nel migliore dei modi è un po complicata però ci provo proviamoci dai prendiamo queste immagini di diciamo di solo 8x8 pixel e per il momento prendiamo solamente la prima riga vedete che se rappresento questa riga con i valori originali risulta essere diciamo dal punto di vista matematico una funzione molto complessa il trucco è quello di rappresentare questa funzione complicata che rappresenta i nostri diciamo valori di intensità di una riga della nostra immagine in funzioni più semplici ovviamente la nostra immagine io parlo sempre di un blocco 8x8 ma si può estendere a qualsiasi immagine tra l'altro per rappresentare la stessa funzione utilizzando funzioni più semplici quali funzioni più semplici utilizziamo nel caso di jpeg si usa il coseno il coseno ha delle belle proprietà dal punto di vista matematico è sempre in range di meno 1 e 1 è una funzione continua e guarda caso è pure periodica perché diciamo sapete il coseno c'è ogni volta a ogni periodo il picco si ripete quindi se io scompongo la riga dell'immagine con una combinazione di funzioni coseno allora il gioco è fatto perché io per la funzione coseno mi devo conservare due parametri l'ampiezza e la frequenza la frequenza è quante volte si ripete in una certa unità di spazio mentre l'ampiezza banalmente è un valore che va a moltiplicare la funzione coseno per far andare oltre il suo range di meno 1 e 1 e questo è molto importante visto che io con tante con diverse funzioni coseno voglio ritornare alla mia immagine originale o quantomeno a quella riga che vi facevo vedere quindi la funzione ce l'abbiamo ma ci serve trovare le varie frequenze e le varie ampiezze dunque per la frequenza non è un problema avendo otto punti usiamo otto funzioni coseno che hanno frequenze da 1 fino a 8 quindi a frequenza sempre maggiore in base al numero di punti che abbiamo ma di ciascuna di queste funzioni coseno devo calcolarmi l'ampiezza questo viene fatto applicando questa formuletta ma su cui diciamo non vorrei entrare molto sul merito il messaggio importante è che ognuno dei nostri punti originali della funzione che vi ricordo rappresentavano intensità di un'immagine adesso vengono rappresentati con un valore di ampiezza che poi viene associato a una funzione coseno con una determinata frequenza e questa frequenza è stabilita dalla posizione di ognuno dei valori della nostra funzione di partenza il primo valore di ampiezza della funzione coseno a frequenza 1 il secondo valore della funzione coseno a frequenza 2 e così via la somma di tutte queste funzioni coseno che ognuna viene chiamata armonica che non è quella che si suona restituisce credeteci o no la funzione originale quindi quella riga dell'immagine che avevamo preso all'inizio qui ci sarebbe tanto altro da dire ma mi limito al necessario per jpeg io quello che faccio è di rappresentare la mia funzione originale che ha 8 punti con un insieme di valori di ampiezza associate ad 8 funzioni coseno a frequenza man mano sempre più alta questo perché lo faccio perché sommate tutte queste funzioni coseno insieme riesco a riavere la mia funzione di partenza e questa cosa la possiamo fare per ogni riga del nostro blocco 8 per 8 lo si fa in due dimensioni infatti in due dimensioni non vengono sommate le funzioni coseno monodimensionali ma vengono sommate funzioni coseno bidimensionali come quelle che appaiono qua a schermo più scendiamo verso il basso più le funzioni coseno hanno una frequenza più alta sia nell'asse orizzontale che in quello verticale quindi dopo tutti questi calcoli passiamo da 64 valori di intensità di illuminanza crominanza a 64 valori di ambiezza di determinate funzioni coseno tutta questa procedura che vi ho spiegato viene chiamata trasformata discreta del coseno coseno perché si usano funzioni coseno discreta discreta perché usiamo valori discreti cosa significa che tra due punti adiacenti della nostra immagine non ci sono valori infiniti cioè è discreto non sono valori continui trasformata perché passiamo da una rappresentazione della diciamo della nostra immagine a un'altra rappresentazione infatti l'immagine originale si dice che è rappresentata all'interno del dominio spaziale dove ogni punto dello spazio rappresenta una determinata intensità di colore con la dct che sarebbe la sigla di discrete cosine transform passiamo allo spazio delle frequenze dove ogni valore identifica una particolare ampiezza di una funzione coseno ovvero quanto è importante il contributo di ogni funzione coseno perché come vi dicevo poco fa abbiamo diverse funzioni coseno con frequenza via via sempre più alta ovviamente qualcuno potrebbe dire e dov'è tutta sta magia perché questo è conveniente da un punto di vista della compressione perché se ci pensate siamo passati da 64 valori interi dell'immagine originale a 64 valori per giunta in virgola mobile sembra che non stiamo comprimendo un bel nulla sembra anzi che vi stia prendendo in giro e questo perché ancora non abbiamo terminato infatti la dct quindi la trasformata discreta del coseno non è un'operazione lossi è completamente reversibile e finora l'unica operazione lossi che abbiamo visto è quella di scalare di ridurre i canali di crominanza adesso si passa a quello che si chiama la quantizzazione che quella che permette di scartare roba della dct è l'operazione di quantizzazione è un'altra del operazione lossi di questo algoritmo che tra l'altro cambia cioè praticamente scarta più roba in base al livello di compressione che noi applichiamo quello che in sostanza si fa è che si prende un valore della dct preso diciamo dal nostro blocco 8x8 e si divide per un numero stabilito cioè per un valore prestabilito proprio si fa proprio una divisione tipo a diviso b valore dct diviso numero questi valori che utilizziamo per dividere sono tabellati in quelle che vengono definite tabelle di quantizzazione e tabella di quantizzazione ce n'è una per ogni livello di conversione più vogliamo comprimere la nostra immagine più il valore all'interno della tabella di quantizzazione è più alto questo perché quando noi facciamo una divisione più il numero alto e più il valore della divisione piccolo giusto quindi prendiamo il coefficiente preso dal risultato della nostra dct e lo dividiamo per uno di questi valori che prendiamo nella tabella di quantizzazione anche la tabella di quantizzazione mi sono dimenticato di dirvi che è 8x8 e una volta fatta questa divisione facciamo uno arrotondamento per ottenere uno indero andiamo a vedere questo tool online interattivo che ho trovato vedete qua più abbasso la qualità più questi valori della tabella di quantizzazione sia per la luminanza che per la crominanza si alzano e se lo notate si alzano in forma diciamo diagonale a partire dal valore in basso a destra fino a salire e questa cosa è fondamentale questa cosa da notare questo perché il nostro occhio è meno sensibile a quello che si dice le altre frequenze che vengono caratterizzate dai coefficienti della dct che sono associati alle funzioni coseno di più alta frequenza quindi più facciamo una quantizzazione più aggressiva più ovviamente perdiamo qualità ci stanno tabelle di quantizzazione standard oppure personalizzate che possono essere messe all'interno del file jpeg va bene io penso di sapere cosa state pensando prendiamo i valori della dct li dividiamo per un numero poi facciamo l'arrotondamento abbiamo sempre 64 valori cioè non abbiamo diminuito nulla cioè sempre 64 valori e in certi è vero ma è adesso che avviene una grossa parte della compressione proprio per ridurre proprio lo spazio occupato dall'immagine questo perché i valori quantizzati della dct vengono organizzati all'interno del file in una maniera piuttosto bizzarra viene fatta quello che si chiama orientamento a zigzag si parte dal primo coefficiente in alto a sinistra mi poi mi sposto a destra e scendo per la diagonale mi sposto in basso e poi vado in alto per la diagonale e così via questo perché visto che i coefficienti quantizzati nella porzione in basso a destra molto spesso possono essere zeri perché li abbiamo divisi per numeri molto grandi ovviamente in base a livello di qualità che vogliamo ottenere anche quando facciamo una compressione con una qualità più alta di solito i valori della dct corrispondendo alle armoniche quindi alle funzioni coseno con alte frequenze hanno sempre no sempre scusate molto spesso dei valori molto piccoli quindi dividere per numeri piccoli abbiamo comunque valori vicino allo zero se non addirittura proprio zero perché come vi dicevo vengono poi arrotondati quindi in virtù del fatto che questi valori sono spesso zero l'ordinamento zigzag mi consente di metterli tutti accanto all'altro e qua l'algoritmo di conversione funziona bene quando abbiamo una sequenza di caratteri che si ripete se avete visto il video di due settimane fa cioè questo qua sto parlando della run length encoding che è leggermente modificata per jpeg ma il principio è più o meno lo stesso la run length encoding viene poi seguita da una codifica di haffman che anche questa vi ho spiegato sempre in questo video a questo punto abbiamo terminato e poi per ricostruire l'immagine originale bisogna rifare tutti questi passi al contrario in particolare di tutto questo algoritmo jpeg due sono gli step diciamo con perdita la riduzione dei canali della crominanza e la quantizzazione dei coefficienti della trasformata discreta del coseno tutto il resto inclusa la dct stessa sono operazioni irreversibili quanto funziona bene jpeg ho fatto questo test ho preso il logo del canale che è un'immagine 1180 x 1180 e l'ho convertito 100 volte in jpeg con vari livelli di qualità da 100 fino a 1 e vediamo come degrada il mio pinguino ovviamente si iniziano già a vedere i primi segni di degradazione causati dagli artefatti generate principalmente dalla quantizzazione dei coefficienti della trasformata discreta del coseno a qualità 1 diciamo l'immagine praticamente irriconoscibile cioè o meglio si vede che un pinguino però è una merda andiamo a vedere l'immagine convertita con il 30 per cento di qualità a una prima impressione sembra che non sia cambiato molto tuttavia se zoomiamo possiamo notare questi quadratini e questi quadratini sono esattamente otto per otto e sono più evidenti nelle zone dei contorni dell'immagine questo perché i contorni di un'immagine sono caratterizzati da campi repentini del colore per approssimare una funzione che a un certo punto a un cambio repentino a un balzo proprio di valori occorrono diverse occorrono tantissime funzioni coseno a tante frequenze infatti in virtù di questa cosa delle frequenze delle funzioni coseno ma anche quelle seno se parliamo di trasformata di Fourier che diciamo è una versione con gli steroidi della dct perché considerano non solo le funzioni coseno ma anche le funzioni seno si dice che i contorni di un'immagine sono caratterizzati da alte frequenze mentre le regioni più piatte più lisce sono caratterizzate da basse frequenze questo è anche il motivo che se applichiamo un filtro passa basso su un'immagine quello che succede che smorza le alte frequenze quindi l'immagine risulta sfogata perché perdendo le alte frequenze della trasformata del coseno ma anche di quella di Fourier perdiamo nitidezza nei contorni al contrario se si applica un filtro passa alto che smorza le basse frequenze restano per lo più i contorni di un'immagine benissimo spero che tutto questo l'abbiate trovato affascinante fatemi sapere se volete che faccia qualche altro approfondimento sulle trasformate varie oppure se volete che faccia un altro approfondimento su un altro algoritmo lossi fatemi sapere questo nei commenti e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao chilo